Francesco Castellaneta, 24 anni, originario di Cellamare, Greta, Francone, 21 anni, del quartiere San Paolo di Bari, sono le vittime dell'incidente mortale avvenuto nella notte scorsa sulla provinciale 236 che collega Bari con Santeramo in Colle all'altezza di Cassano delle Murge. Per cause ancora da chiarire, l'auto su cui viaggiavano i due ragazzi, una Mercedes CLA, è finita fuoristrada sfondando il guardrail e precipitando nel vuoto da un cavalcavia. I due erano fidanzati, per loro non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Tra le cause non si esclude l'alta velocità. Il cavalcavia, tra l'altro, sarebbe protetto da un autovelox che forse non era attivo. Al momento il tratto teatro dell'incidente è stato chiuso al traffico fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Dolore e sconcerto per le due giovani vite spezzate. Un altro sinistro mortale si è verificato invece nella tarda mattinata di ieri domenica 29 settembre lungo la provinciale che collega Ostuni e Carovigno. Un 41enne, Giuseppe Salonna, ha perso la vita dopo che la sua auto, una BMW, si è ribaltata più volte a seguito dell'impatto contro un muretto a secco. Inutili i tentativi di rianimare il 41enne da parte del personale sanitario. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Ostuni. Incidente anche sulla strada statale 613 che collega Brindisi e Lecce in mattinata. In questo caso, fortunatamente senza vittime, un tir ribaltato all'altezza dello svincolo per Squinzano Trepuzzi. Il mezzo avrebbe impattato contro il guardrail per poi finire in un terreno che costeggia la statale. Il conducente è uscito illeso. Infine l'ennesimo sinistro sulla statale 100 non mortale tra San Michele e Casa Massima. Due le auto coinvolte e distrutte dalle fiamme. Domenica pomeriggio il bilancio è di tre feriti gravi.